Cari amici, Ovada, provincia di Alessandria, facciamo una carrellata, incominciamo con questa 124 Sport, vedete, è davvero sempre carina, decisamente carina, anche la capote in stato perfetto, veramente bella, andiamo avanti, qui invece vediamo una, spero che si veda, ho un sole contro, una 8,50, anche questa è conservata perfettamente, 8,50, Fiat Sport 8,50, assai carina, una Jeep, 500 Abarth, 500 Abarth, e poi qui un classico, un classico, non può mancare neanche questa, macchine decisamente, vetture decisamente interessanti, ciao, e qui una MG, MG, decisamente bella, degna di nota, a cui facciamo seguire un BMW 320, 120, insomma, c'è da rifarsi gli occhi, la bianchina scoperta, devo essere per forza di cose, rapido, così volevo farvi vedere un po' tutto, un BMW nero decisamente più recente, tutto, quasi tutto, un bel mezzo, anche questo, la Triumph, che non ha bisogno di presentazioni a sua volta, lancia in un elegante livrea grigia, Alfa Triumph, e poi Alfa Romeo, in casa Alfa Romeo, vettura decisamente bella, 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 un rapidissimo, rapidissima visione del cruscotto, un altro MG, un Porsche, un Porsche Targa, vedete, ecco, questa si chiama Targa, per i meno esperti, il Maggiolone, che è sempre Maggiolone, alcuni mezzi, molto ben tenuti, anche questo è un spettacolo, qui abbiamo appunto un 8,50 credo, 8,50 questo, decisamente carino, Fiat, un Mercedes notevole, devo però essere veloce, il Deltone, non che non meriti, il Deltone è sempre del Deltone, ma probabilmente lo conoscete, vediamo se vediamo qualcosa di più sfizioso, tipo, ripeto, non che il Deltone non meriti, eh, anzi, se avete sui 35.000 euro, ve lo ragazzi, è di marco!